Oggi qui di nuovo insieme per affrontare il tema Acerbi, attenzione a quello che dice il nostro titolo con Acerbi che rischia almeno 10 giornate di squalifica ma diciamo due argomenti in uno, ci domandiamo se rischia di saltare ovviamente anche il campionato europeo, dobbiamo fare un po' il punto della situazione rispetto a quello che sta succedendo, perché diciamo che rischia 10 giornate di squalifica? Perché basta andare a guardare il codice di giustizia sportiva, l'articolo 28 che abbiamo anche Tanto almeno, perché si parte da 10. Possiamo andare anche a leggere insieme quello che dice, allora partiamo dal presupposto che si parla di comportamenti discriminatori costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che direttamente o indirettamente comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale eccetera eccetera Attenzione al secondo comma, che dice il calciatore che commette violazione per una di queste cose è punito con la squalifica per almeno 10 giornate di gara o nei casi più gravi con una squalifica a tempo determinato, quindi significa che potrebbe arrivare a una squalifica a tempo, quindi fino al 15 giugno Ovviamente in questo momento dobbiamo prendere per buone le due posizioni, Acerbi e Juan Jesus Andiamo a leggere insieme le parole di Acerbi che ieri di rientro da Coverciano dove ha lasciato il ritiro della Nazionale poi dopo il colloquio con Luciano Spaletti lui ribadisce di non aver detto nessuna frase razzista Poco ma sicuro, sono molto sereno e ora dico un bel vaffa al razzismo Frasi razziste dalla mia bocca non ne sono mai uscite, Juan Jesus potrebbe aver capito anche male Io so che non ho detto frasi razziste, sono 20 anni che gioco a calcio e so quello che dico La Nazionale, quello che è successo lì sono cose nostre, mi spiace aver dovuto lasciare il ritiro però è andata così ed è giusto così Tenete conto che oggi Acerbi ha ribadito le stesse cose a Marotta C'è stato un colloquio in sede all'Inter, Marotta l'avvocato dell'Inter e Acerbi lui ribadisce di non aver pronunciato le frasi razziste che gli sono state attribuite La cosa sarebbe finita così ma Juan Jesus ieri ha un po' rincarato la dose perché ascoltando e avendo contezza di queste affermazioni di Acerbi il difensore del Napoli ha ribadito dicendo Per me la questione si era chiusa in campo con le scuse di Acerbi e sinceramente avrei preferito non tornare su una cosa così ignobile come quella che ho dovuto subire Ora però leggo le dichiarazioni di Acerbi totalmente contrastanti con la realtà dei fatti con quanto detto da lui stesso sul terreno di gioco e con l'evidenza mostrata anche da filmati e labiali inequivocabili in cui mi domanda perdono Così non ci sto, il razzismo si combatte qui e ora Acerbi mi ha detto Vai via nero, sei solo un negro In seguito alla mia protesta con l'arbitro ha ammesso di aver sbagliato e mi ha chiesto scusa Aggiungendo poi anche Per me negro è un insulto come un altro Oggi ha cambiato versione Sostiene che non c'è stato alcun insulto razzista Non ho nulla da aggiungere Questo un po' per riepilogare la questione Questione nella quale interviene anche Luciano Moggi Buonasera Luciano Buonasera Io intervengo Devo dire che in campo durante le partite se ne dicono di tutti i colori Magari può essere uscita anche una frase fuori posto ad Acerbi Però devo dire che a fine partita mi sembra che hanno parlato in maniera diversa entrambi E soprattutto Gesù Quindi andare avanti nella cosa sicuramente per regolamento dovrebbe subire la severa squalifica Su questo non c'è dubbio Vediamo quello che succede Io praticamente agirei con buon senso E' certo che la mancanza è stata grave anche perché era una giornata praticamente particolare quella lì Ma bisogna vedere con che tono è stato detto qualcosa E se praticamente sono amici Se si possono dire anche altre cose tra di loro Ci sono mille cose che praticamente avvengono in una partita di calcio Tra i giocatori che si contendono il pallone Per cui preferirei ascoltare chi è molto più impegno Diciamo che ne sa molta più di me su questo argomento Perché al di là di quello che è stato detto e fatto sul posto Che sia stato detto e fatto in questa maniera Praticamente c'è una legge e la legge va rispettata Tenete conto che entro venerdì il giudice sportivo li vuole ascoltare entrambi Quindi probabilmente Giovedì forse Più giovedì Più giovedì e magari venerdì si arriverà a capire A cervi della pinettina in videoconferenza Però vedi Francesco c'è una cosa importante Allora il giocatore Iesus ha cercato di tranquillizzare la cosa Subito dopo l'accaduto Mi ha chiesto scusa eccetera Erano versioni diverse Adesso sono versioni invece che sembrano E sono cambiati completamente No è vero ma ha detto così E dopo la partita praticamente non l'aveva detto proprio così Era come se fosse una battuta Si sono chiesti scusa ed era finito Capisco però anche Juan Jesus che dice C'eravamo chiariti Avevamo risolto la questione Adesso Cervi va a dire che non mi ha detto niente E che sono stato io a capire male Sai cos'è? Quella mia impressione che Sono me a Cervi abbia cambiato la versione Per dire Diciamo che non ho detto niente Poi dopo se dai filmare Perché immagino che il giudice sportivo Dovrà verificare le immagini Dovrà verificare i labiai Dovrà verificare tutti Tutti i vari dialoghi Quindi se non raggiunge la certezza matematica Il giudice sportivo ha esaminato L'arbitro ha scritto Quello che ha sentito Quello che è stato riportato Ma ha chiesto un supplemento di indagini Anche se Michele La giudizia sportiva è molto particolare Da questo punto di vista Perché ci sono dei precedenti Che senza aver ricostruito Senza ogni ragionevole dubbio La colpevolezza Però siccome è molto probabile Nel passato È successo in un'altra partita Quattro anni fa Con Obi Che era stato Diciamo qua in Gesù Ma credo Recentemente un paio di volte In Lega Pro Un altro caso Sì anche in Lega Pro Giocatore del Padova Mi pare Sì con la San Benedettese Sì però Però voglio dire Voglio dire Però adesso è giusto Che secondo me Non si può fare una condanna Se non sa Se il giudice sportivo Mastra Andrea Ha chiesto un approfondimento Alla procura federale Vuol dire che non aveva ancora Tutti gli elementi Si può andare ancora più a fondo E come? Per esempio ci sono delle zone grigie Quando Juan Jesus Fa la sua parte Che Juan Jesus Che dice Era finito per me Tutto lì Non ha capito niente Nel senso che Se tu vai dall'arbitro Inizia un percorso Sì ho capito Adesso bisogna togliersi Però la maglia Da dosso Eh no ma ci mancherebbe altro Bisogna togliersi la maglia E bisogna approfondire Per capire cosa hanno detto davvero La verità bisogna scoprire Ma bisogna Scusa Bisogna togliersi la maglia E non leggere sui giornali Quello che è stato scritto Sui giornali Che hanno detto Di tutto e di più Eccetera Ma Luciano C'è la certezza C'è la certezza Di quello che ha detto Ad oggi no Perché Secondo me Che comprovi Che lui l'ha detto E' parola contro parola Gigi Gigi scusa Se Va dall'arbitro E l'arbitro deve dire Quello che gli ha detto E' troppo lunga la storia Certo Certo Allora Il problema di fondo Sai qual è E' che nell'immediato Loro Non avrebbero detto niente Ha sbagliato Jesus Evidentemente Ad andare dall'arbitro Ma non ha sbagliato Non ha sbagliato No 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 Un momento Perché ha sbagliato Se lui si sente di essere No aspetta Ha fatto marcia indietro Poi Attenzione Allora Ma io non giustifico mica Attenzione A Cerbi Con questo Solo che io dico a tifosi Lasciate le mani da parte Difendete il difendibile E non mettete insieme cose Per fare un favore Alla vostra società Questo E' quello che dico io Poi il resto Parlate tranquillamente Per quello che volete Ma tenetevi Lontani dal tifo Perché il tifo Praticamente oggi Ha parlato In una maniera particolare Guai Sembrerebbe che Ma quando Se è sbagliato Ho sbagliato Ma infatti qua Non si parla di colore di maglie Ma colore di pelle Non c'entra niente La maglia della squadra Allora Dobbiamo dire che No no Scusa Allora non mi vuoi capire Come non mi vuoi capire I difensori di queste cose I difensori di Acerbi Sono i tifosi interisti Ma che c'entra lì Io non sto parlando Non la maglia Non la maglia E ne praticamente il colore Sì ma io non sto facendo la polemica Sto solo Sto solo ribadendo Che non c'entra niente Il colore della maglia Ho detto la stessa cosa Non c'entra niente Il colore della maglia No 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 Non ha detto Non ha detto Io ho detto Che non deve essere Il tifoso che difende E purtroppo è solo il tifoso Che difende In questa fattispecie Tu cerchi anche di fare Un po' di salti mortali Ma io ti capisco No 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 Iniziamo Forse non vi siete capiti Ma Michele proprio Non sta cercando Di difendere Acerbi Nella maniera Questa volta no Questa volta no Mettiamo i puntini sulle I Mettiamo i puntini sulle I Se ha detto quello Che dice Juan Jesus E viene accertato La regola è precisa Dieci giornate Il minimo Almeno O il tempo Nei mesi Però bisogna accertarlo Bisogna accertarlo Oggi ho sentito Delle condanne Senza aver accertato Anche diversi colleghi Hanno già detto Che ormai è così Guarda Guarda Di condanne Ce ne sono state Da tutte le parti Senza aver accettato Appunto Ti basti calciopoli Ti basti calciopoli Vabbè ma che c'entra adesso Il problema Il problema di fondo Sai qual è È che adesso Si cerca È inutile nascondersi Dietro un dito Si cerca Di difendere La propria causa La propria causa Praticamente La mia causa Io sono un giornalista È la verità La mia causa Ho letto Gli giornali Addirittura dove si dice Non fate fare il martire Acerbi Allora Che mi dici Di fronte a una cosa Del genere Io Sto dicendo Che chi ha dato Già dei giudizi Siamo tutti d'accordo Su questo Siamo tutti d'accordo Su questo Così come forse Un'altra cosa No Se avete letto I giornali Non tutti sono d'accordo Su questo I giornali Ma infatti Ho criticato Chi ha dato Delle sentenze Io ho criticato Chi ha dato Delle sentenze Sia a difesa E sia In attacco Perché Anche chi dà Delle sentenze definitive Su quello che è successo Dobbiamo stare Al giudice sportivo Il giudice sportivo ha detto Dobbiamo approfondire Quindi Adesso approfondiranno E come si può approfondire? Per esempio Si può approfondire Perché per esempio Juan Gesù ha dato la sua versione Le parole Mentre Acerbi Non ha detto le parole Ha detto Non ho detto niente di razzista Secondo me La prima cosa Che gli chiederanno Cosa hai detto? Oh Perché lui può dire Per esempio Il suo agente dice Non ha usato quella parola Che invece dice Juan Gesù Quindi già dobbiamo capire Tu confermi che l'ha usata Perché Juan Gesù dice No Lui conferma Ma dice che secondo lui È una parola come un'altra Se dovesse dire questo Acerbi È condanna sicuro Perché nel mondo reale Quella è una parola Discriminazione raziale Fai un'osservazione corretta Un attimo Luciano Scusami No perché un'altra cosa Un altro schema No Vai No devo Devo Entrare in proposito Allora Lasciamo che i giudici Facciano la loro parte E poi dopo ne parliamo Perché tanto qui Non possiamo dire niente Di certo Né io Né voi Né tutti gli altri Deve essere il giudice Che appura Quello che è successo Siccome sarà difficile Per il giudice Appurare Ma comunque Lasciamolo Lasciamolo tranquillo Che possa fare Il suo dovere Dopodiché Si potrà discutere Ma adesso Lasciamo stare Adesso Non vale neppure La pena parlarne Di questo Però sai com'è La notizia del giorno Un po' dobbiamo trattarla Luciano Non è che Perfetto 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 Dobbiamo trattare La notizia del giorno Trattiamola Però Con i termini giusti Cioè sapendo Che non c'è niente di certo Praticamente In questo momento E quindi Noi non possiamo dire Cose che non sappiamo No no ma infatti Noi facciamo cronaca E raccontiamo Quello che è successo oggi Forse anche magari Angelo Uscendo Da quella frase Che Molto spesso Viene utilizzata No Sono cose di campo Ma che significa Sono cose di campo Vuol dire che sul campo Si può dire Fare di tutto Allo stadio Si può dire Fare di tutto Perché poi Quello che succede in campo Finisce in campo Cioè quasi come No Se Venisse derubricato Ha fatto marginale Però tu sei un esempio Anche per chi ti guarda Sei un esempio Per i ragazzini Sei un esempio per tutti Cioè Dire che sul campo Si può fare Più o meno tutto Mi sembra Una 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 scelta un po' di comodo Per svicolare E non prendersi Delle responsabilità No Che purtroppo Possa accadere È un dato Oggettivo E è il motivo Per il quale Le regole stabiliscono Certo Una sanzione Direi anche esemplare Caspita Caspita Dieci giornate Sono tantissime Tanta roba Insomma Quindi Io dico Può sicuramente capitare E ben venga il fatto Di prevedere Regole esemplari Dopodiché Non è giustificabile Può essere giustificata Sul campo Se uno Passeggia in un campo Agricolo Da solo E può Permettersi Di delirare Di far neticare Le peggio cose In un contesto Come questo Per il ruolo Che ricoprono E per le attenzioni Che appunto Catalizzano Non deve assolutamente Capitare Concordo Che però Sia importante Aspettare Il processo Non inteso Come sentenza Ma il processo Di verifica Certo E allora Scusa E allora Scusa E quello che dico io Perfetto Concordo E non facciamo Il processo In televisione Come si usa in Italia Aspettiamo Che sia giudice A giudiziaria Purtroppo in Italia Arriva prima Il processo televisivo Che spesso Non fa scopa Che spesso Non fa scopa Col processo Giudiziario Ma purtroppo Poi quando arriva L'esito Del giudiziario Ma vedi E trovo Sicuramente Succede questo Però attenzione C'è anche Ci sono anche Le televisioni Di buon senso Le persone di buon senso Che dicono Lasciamo giudicare Il giudice Poi vedremo dopo Perché altrimenti Facendo il processo Prima Sapete che succede Si mette nella testa Anche del giudice Come è successo In passato Perché ci sono Tanti esempi Calciopoli è uno Come è successo In passato Che si dà E i giornali Sono poi quelli Che mettono Chi dice Non crucifiggerlo Chi invece dice Lo devi crucifiggere Noi Non dobbiamo Prendere parte A queste cose Per essere Una televisione seria Questo è quello Che dico io Quindi lasciamo A chi deve giudicare Abbiamo dato una notizia Giornalistica Ed è giusto darla Però Nel momento In cui l'abbiamo data Poi lasciamo Agli altri Non diciamo Se mai fu Facciamo che i giudici Dicano se mai fu Paolo Volevo sentire anche te Su questo tema E sulle eventuali conseguenze Che potrebbe avere Per la Cervi Una maxis qualifica Compreso il rischio Di un'eventuale Convocazione All'europeo Beh Intanto Da regolamento Avevi stato l'articolo 28 Quindi se fosse così Avrebbe finito il campionato Mancano nove giornate No io stavo riflettendo Su un tecnicismo No Se il giudice sportivo Chiede alla procura Di reperire altri elementi Testimonianze Vuol dire che evidentemente In mano non ha tanto Per deliberare Certo E se le posizioni Restano le stesse Alle quali stiamo assistendo A Cervi Che sostiene Di non aver pronunciato Quella frase One Jesus Al contrario Di averla sentita Mi chiedo Ci saranno luogo A procedere Oppure Sulla spinta Anche Delle emotività Dell'insurrezione popolare Perché ovviamente Questo tema Del razzismo È molto sentito Chiaramente Cioè Tu dici Non condannare a Cervi Verrebbe eletto Come la fatta franca Tu dici questo? Non è il mio pensiero No dico Come verrebbe recepita Tu dici Verrebbe eletto Dal pensiero comune Ma Se un giudice Si basa Su una sentenza Per quello che ha Mi ha sorpreso Che il giudice sportivo In qualche modo Non avesse elementi Tali Di fronte ad una cosa Così Che sembra Grossa Chiara Parlano Labiali Non labiali Da chiedere un supplemento No Di indagine Quindi in teoria Ci potrebbe essere Anche in un luogo A procedere Ma ci sarà O la spinta popolare Porta comunque La condanna di Acerbi Perché mi sembra Che Acerbi Come chiunque Spingere dall'ondata popolare Esatto Quello che dice Paolo Più o meno Quello che dice Luciano Nel senso Non vorrei che poi dopo Effettivamente Per mili motivi Scusa Paolo Paolo Scusa Ricordatevi una cosa Che nel processo Di Calciopoli Si sta scritto La sentenza Ha fatto seguito Al sentimento popolare Il sentimento popolare Era creato Da chi? Da quelli Che praticamente Intendevano Far Diciamo È inutile Che vi spieghi Il processo Di Calciopoli Però Era inteso Perché i giornali Avevano Veramente detto Addirittura Che si compravano Gli arbitri Addirittura Che il sorteggio Poi dopo Stranamente Il sorteggio Per esempio Era stato Derubricato E idem Che si compravano Gli arbitri Anche perché La Juventus Non ha mai Speso una lira Per questo Sì no ma infatti Il mio interrogativo Era quello Cioè Su un tema Così sensibile Il rischio In mancanza Di elementi certi E che ci sia Appunto Una contattata Ci sia Che in giudici Sono Tra virgolette In basso No In assoluto No In assoluto No però La spinta Popolare Fa il sentimento Popolare Anche Sì sì Ma è ragione Anche Fa il sentimento Popolare Questo sta dicendo Quello che dicevo io Luciano Io ho detto La stessa cosa Cioè Sei d'accordo Ho capito Io mi auguro Per tutti Insomma Che i giudici Soprattutto La giudizia sportiva Cioè Riescano Ad argomentare In maniera tale Che non ci possano Essere appunto Dubbi Sul fatto Che si sia presa Una decisione Sulla base Della documentazione Anche al di là Di ogni ragionevole Dubbio Quando hai Una sorta di Chiamiamo Profondato Sospetto Che la cosa Possa essere Veramente Successa Vai a bastonare Eh però Sarebbe un errore Se il giudice Chiede un supplemento Di indagini Vuol dire che Non ha niente In mano Anche perché Ma no Ci sta Certo Non c'è un labiale Che ti dica Sì l'ha detto Non c'è Uno che l'ha sentito O se c'è Non l'ha ritenuto Esaustivo Così Perché se no Se l'arbitro Avesse sentito Lo Se l'arbitro Avesse sentito Sarebbe Sul referto Non ci sarebbe Stato un supplemento Di indagini Avrebbe giudicato Parlando dell'arbitro Che se sente Ti spelle Si dico Ma se avesse sentito Avrebbe esposto immediatamente A Cervi Sarebbero arrivati 10 giornate Adesso Però dico Attenzione Perché c'è Da materiale Per approfondire È facile Uno ha parlato Ricostruendo L'altro non ha parlato Dicendo in generale Quindi di fronte I due Gli chiedi E dici Se le posizioni Restano quelle però Ah se le posizioni Restano quelle Inizia a essere Molto Mi chiede Ormai Restano quelle Le posizioni Vero simile pensare Che restino così Perché ribadiamo Che a Cervi Anche oggi A Marotta L'avvocato Dell'Inter Ha ribadito La stessa identica Io sono andato oltre Allora lo condanno Uguale per il sentimento Popolare Quando Juan Gesus Dice Quando mi fai così Con la mano Sulla spalla Per dire No dai Tipo Perché fa riferimento A Turam Si vede Dice io in squadra Turam Quindi quello è Un altro piccolo elemento Che si sta parlando Di quell'argomento Però a Cervi sostiene Che dice No Magari ha capito Una cosa per un'altra Però lo devi dire Con la persona offesa Di fronte Non è una cosa facile Facile No 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 Tutto Secondo me In cortocircuito E sta cosa E che Questa accusa Viene definita Genericamente Razzismo Io Anche se a Cervi Prende 25 giornate Non credo Non crederò mai Che a Cervi Sia razzista Sia razzista Se ha usato Questi termini È stato Stupido Sciocco Ma la frase è razzista Paolo Però purtroppo Viene derubricata così La frase è razzista Ma non può essere razzista Non lui Per esempio Ti ricordi quando Tavecchio presidente Della federazione Si diceva O tipo B O tipo B Con le banane È una persona Che ha un curriculum Le parole hanno un peso E hanno significato No no Dico Che poi Questo termine Ha più un peso Perché viene codificato Di offese personali Che possono fare male uguale No no Sicuramente sì Però in questo caso Devi fare riferimento A una legge Abbiamo visto l'articolo 28 Parla di discriminazione Sulla base Della razza Del colore della pelle Del sesso Della religione Eccetera Ricordate in Udinese Milan No Gli ululati Amenian Tra quelli che hanno individuato C'era uno di colore Sì sì Certo E nell'Udinese Stavano giocando Tre o quattro di colore Sicuramente sì Cioè quindi Il cortocircuito è questo Cioè è una cosa Che va appurata Però c'è già una condanna Perché è razzismo No Ovviamente noi prendiamo atto Di quello che sta succedendo Vi tarremo aggiornati Su tutte le conseguenze E soprattutto Quando arriverà la famosa Sentenza del giudice sportivo La commenteremo insieme Lasciando ovviamente poi Al giudice Tutto il tempo necessario Per appurare Comunque secondo me Qualora dovesse essere poi Dovesse essere una condanna Sarà una condanna Solamente di giornate Non ha tempo Secondo me No no Per carità No sono giornate Per carità No Potrebbe essere O giornate O giornate 10 giornate Vuol dire aver rovinato Praticamente L'europeo Il campionato No perché più o meno È definito Ma l'europeo Scusa Perché lui Se scontra le giornate No poi c'è anche La questione etica Della nazionale Cioè se viene squalificato Secondo me Spalletti abbiamo detto Che se la prende Con la playstation Figurati con la squalifica Non prenderà mai uno squalificato Difficile Cioè il rischio Infatti Noi l'abbiamo messo Nella nostra domanda Del titolo Cioè potenzialmente Con una maxi squalifica Il rischio concreto Sarebbe ovviamente Che saltasse anche l'europeo Questo è o Purtroppo C'è una sensibilità Della feder calcio Ma assolutamente E poi anche a livello Comunque Di immagine Che la feder calcio Da Non portare Giustamente Anche un giocatore Che Si porterebbe Dito una squalifica Di questo tipo Si sa che Arriveranno Taremi e Zilinski Oggi Questo nome che esce È quello di Gudmundson del Genoa Ci stanno lavorando E soprattutto Come ci si fa Ad arrivare eventualmente Ma dunque Io non ho Convergenza su Gudmundson Mentre Sapevo Che è una cosa Che in pratica Esce dall'ultima trasferta Dell'Inter a Madrid Da Da canali Insomma Che passano da Marotta Eccetera E l'avevo raccontata Anche ieri sera Il processo Cioè che l'Inter Aveva intenzione Di mettere Nonostante l'arrivo Di Taremi Un altro budget Massimo Fino a 30 milioni Per prendere Un altro attaccante Ovviamente Al minimo Facendo partire Sia Sanchez Che Arnav Questo è ovvio E vedo Gazzetta Che parla di Gudmundson Secondo me Su Gudmundson Sarà molto dura Perché vale Più di 30 milioni Però insomma La notizia Cioè è vera Che l'Inter Vuole mettere Un altro attaccante Cioè rivoluzionare Completamente Il reparto A parti 2 Lautare e Turam E quindi è una cosa Da seguire Ecco Imprendibili Di quel valore C'era tutto un elenco Da Scamacca Che non hanno rilanciato Da Baloghan Ma poi dico Turam L'hai preso per caso Perché se tu Stai puntando tutto Su Scamacca No 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 Turam L'avevano già preso Ci avevano rapporti Da prima Quando questo Era fatto male Però Paolo Se avessero preso Scamacca Prendevano anche Turam Sì Turam Era già stato preso prima Scamacca era al posto Di Lukaku Però Scamacca Non hanno voluto Rilanciare a 30 Perché hanno detto No se devo arrivare a 30 Non hanno preso Scamacca E hanno preso Arnautovic Sì Per capirlo Per i soldi L'hanno messo Non investiti su Scamacca Non hanno preso Pavard Adesso questa stagione Cosa ha detto Che i vice Lautaro e Turam Non hanno fatto Una stagione granché Soprattutto Arnautovic Due volte ha avuto Problemi muscolari E comunque Non hanno reso Allora l'Inter Vorrebbe Proverà a dare A Dinzaki L'anno prossimo Come step in più Quattro punte Un po' più omogeneo Come livello Cioè se manca uno Per squalifica Manca uno per infortunio Tra Lautaro e Turam Devi andare un po' più Sul sicuro Uno è Taremi Che è già stato Praticamente preso Deve fare le visite mediche E l'altro è come diceva Paolo Si faranno valutazioni Secondo me serve più Il vice Turam Quindi più il Gudmundson Della situazione Però Gudmundson costa tanto Non è abbastanza inarrivabile Gudmundson Sì poi magari Con il Genoa Ci sono ottimi rapporti Ci possono essere contropartiti Anche se il Genoa Non ci sente Vuole capitalizzare Poi l'Inter può vendere Purtroppo Mi dispiacerebbe tantissimo Valentin Carboni Per cui hanno offerto Già 20 milioni Paolo l'ha raccontato In questo gennaio Fiorentina Una squadra inglese C'erano tante squadre Valentin Carboni Secondo me è l'ideale Per avere il parco attaccanti Di 5 Cresciuto Nel Vivaio 2005 Sarebbe un peccato Veramente Però se l'Inter Individua Che dice Voglio il terzo e il quarto Più forti Tutti i giovani che ha Possono diventare sacrificabili Da Sebastiano Esposito Va Noisden A una serie di giovani In giro per il mondo Che potrebbero fare un tesoretto E cercare di andare A prendere una punta A 30 milioni La priorità dell'Inter Per l'anno prossimo Luciano è quella La punta o le punte Vabbè la punta Diciamo che Taremi lo diamo ormai Per fatto Sì Taremi Sicuramente è fatto Ma più che una punta Vorrebbero probabilmente Una mezza punta Perché parlando di Goodson Si parla Non di un centroavanti Si parla di una mezza punta Che si inserisce Tra le linee E va Spesso a contatto Del potere avversario Se neanche bei gol Quindi L'Inter A questo punto Sta cercando Praticamente Dei giocatori Che abbiano Piedi buoni E testa giusta E che siano Importanti Per quello Che potrebbe essere E' chiaro Che l'austriaco Non piace a nessuno Fanno finta Che piaccia Però la sostanza È che Quindi tentano Di ritornare Praticamente In un processo In un processo inverso E prendere Magari Di giovani Che possono avere Un'attività Futuribile Io tengo A precisare Una cosa Non capisco Non capisco E quindi Devo dire Che mi astengo Certe volte Da parlare Queste cose Perché Ho letto Che L'Inter Ho letto Che Marotta Avevano fatto Un mercato Praticamente Eccezionale E bastata L'eliminazione Della Coppa Per dire Che hanno sbagliato Addirittura Hanno criticato Pure Turani Che era stato Manificato E L'allenatore Che nella sostanza Credo che abbia fatto bene Fino a qui Tutto Tutto Quanto È vero Che è stato eliminato È vero Che cuoce l'eliminazione Però Ci sta nel calcio E poi dopo È giusto Magari parlare Di Sanchez Che non serve Ma le caratteristiche Del giocatore Che cercano Dovrebbe essere La caratteristica Che ha Sanchez Adesso Uno svelto con i piedi Che salta all'avvenzare E crea gli spazi Questo è quello Che stanno cercando Angelo Sul discorso Inter Beh Mi sembra che Marotta Si stia muovendo Già con Adeguato anticipo Zelischi e Taremi a zero Sono dei due Gran begli innesti E poi Adesso hai tempo Anche di andare a ragionare Per cedere qualcuno Per andarti a prendere Magari Il Gudmundson O Il giocatore X Della situazione Beh Sicuramente Partire con I giusti tempi Vuol dire Potersi Accapparare I migliori acquisti E le migliori vendite Quindi questo sicuramente Fa bene L'Inter A non sedersi Su una squadra Che ha dimostrato Di essere Qualche spanna Superiore Al campionato Insomma Fa bene Benvenga Vuol dire Insomma Secondo me Iniziare a pensare Già alla nuova stagione La filosofia Sostanzialmente La stessa Noi parametri zero Come inizio Taremi Zelinski E poi E poi Una cegliaggino due Per uscire Però sono veramente curioso Di capire Se ci sarà Al di là dei giovani Di cui parlava Michele Questa volta E questa volta Come lo scorso anno Qualche eccessione Eccellente Perché ti ricordi L'anno scorso Tante Molti si disperavano Ma come faranno Senza Nana Senza Brozovic Invece poi No Il caso diciamo Di Dunfris È da risolvere Perché nel 2025 Che scade L'Inter non arriva Sicuro a scadenza Quindi o rinnova O quest'estate Va sul mercato Ma hai preso Bucano Sì Che però sta giocando A sinistra Quelle poche volte Che è entrato Sì Perché l'Inter Diciamo Ha sondato un po' C'è questo giapponese Sugavara Che gioca in Olanda Ma altri giocatori Esterni destri Bisognerà vedere Se Dunfris rimane o no Per il resto La squadra Praticamente Con Zelisky Taremi Sì c'è questa possibilità Ma lì Se riesci a prendere Pur una seconda punta Forte Benvenga Meglio ancora Per il resto La squadra La rosa dell'anno prossimo È quella C'è fatta A meno che poi Come dice Paolo Arrivi una grande offerta Per un big Lo vanno a corteggiare Gli danno tanto E l'Inter però Ha dei contratti Dovrà rinnovare Barella Lautaro Potrà chiedere Posso fare una riflessione Questi potenziali acquisti Possono creare Scompensi O destabilizzare Qualcuno In squadra Questi due no Perché Taremi Zerisky Zerisky va a prendere Il posto di classe In essensi E Mkhitaryan Ha un anno in più Quindi la casella Del centro Della mezzala sinistra È giusto avere uno Un piccolo upgrade Perché classe In quest'anno Ha giocato quasi mai E Mkhitaryan Ha un anno in più Sullo spogliatoio si rafforza No L'unico concetto È che questa filosofia Porta ad un innalzamento Del monte ingaggi Cioè l'Inter quest'anno Il prossimo anno Crescerà sensibilmente Sul monte ingaggi Grazie per gli aumenti Di Lamparo Come diceva Luciano Al Napoli Manca uno Che salta l'uomo All'Inter All'Inter Scusa Manca uno Che salta l'uomo Dovranno cercare Una quarta punta Dovrà essere rapida Potente Che salta l'uomo Perché Non ce l'ha Tipo Sanchez Esatto Tipo Ma ecco Quest'anno È mancato Sanchez Perché ha giocato Poche partite Perché non è più Sanchez una volta Ho sentito il nome Di Simone Che è un ottimo Però non è quello Secondo me Che cercano loro Paradossalmente È meglio Raspadori di Simone Per l'Inter Sì ma non come titolare Però mister Non come titolare No no assolutamente Non come titolare La cosa che diceva poi Angelo Angelo È che devi cercare Anche Dei personaggi Che non destabilizzano Un po' Quello che è La regola Della squadra La squadra è quella I due attaccanti Saranno Lautaro E Turan Devi cercare due Che possono entrare Al posto Loro E che siano subito Pronti per giocare Cioè non che debbano Aspettare dieci minuti Un quarto d'ora Per essere Mister Ma Carboni Ti piace Come quello che sta facendo Carboni Carboni è ottimo Però secondo me Si deve confermare In una squadra Cioè non l'Inter L'Inter ha bisogno Di gente sicura Perché dico Io chiedo anche a Paolo Cioè venti milioni L'hanno rifiutati Noi diciamo sempre Casadei a venti andò Al Chelsea Certo Cioè quale può essere La cifra per cui tu non hai Rimpianti Dice poi magari esplode Però sai Mi hanno dato 30-40 Cioè quale può essere Ma senti però Secondo me più che la cifra È una filosofia Io pensavo Il Dice Che è la stessa età Di Carboni Cioè la Juve Ha deciso Che tra le tante Cessioni potenziali Il Dice Non è sul mercato Ancora Perché può crescere Il suo valore Io credo che Rifiuterebbero Offerte da 50 milioni Per il Dice Quest'estate Pro Dice ha giocato Nella Juve Valentin Carboni Ha giocato Nell'Unza È vero È vero Però se tu È un 2005 Se tu vuoi far più valore Puoi avere la pazienza E decidere cosa fare Ma non venderlo Non venderlo nella prossima Scusa Infatti Carboni Non verrà venduto Perché l'Inter ci crede Eh beh no Sì però Secondo Michele Dice c'è un dubbio No c'è un dubbio Perché allora L'Inter vuole prendere La seconda punta Non è che allora Perché se no vogliamo La botta è piena La moglie ubriaca Allora se l'Inter Vuole spendere Per la seconda punta I soldi non è che arrivano Chissà da dove L'Inter chiude E certo L'incessione la devi fare Eh beh Per questo Cioè allora Se uno pensa Che Gudmundson È 97 Certo sono 8 anni in più Rispetto a un 2005 Sì ma come diceva Luciano Non è una punta Gudmundson È un trequartista È il vice Durango Il vice Durango Tanto che salta l'uomo Però è uno che deve girare In tutto lo spazio del campo Sì sì È quello che serve E seguire la sua intuizione È quello che serve Però scusa Michele Però tu dietro hai Sì Devrai e Acerbi Che ormai Sì Pavar Bissec Bastoni e Carlos Augusto L'Inter ha le sei maglie Già piene Tu non pensi che un centrale Siamo bisogno di un centrale No hanno un contratto tutti Perché sono due centrali Che hanno una certa età Eh sì ma stanno giocando bene Quest'anno Eh quest'anno Però comunque l'anno prossimo Non hanno un in più Ma hanno un contratto No a parte il contratto Eh ho capito No no l'Inter li ha promossi questi Pavar Bissec a destra Acerbi e De Vrai centrali Ieri ha parlato pure Pastorello Su De Vrai Ha un contratto due anni più E a sinistra Carlos Augusto È diventato De Vrai e Acerbi Quanti anni hanno? De Vrai è un 92 E Acerbi un 88 Però ripeto Cioè ci hanno pensato L'anno scorso L'anno scorso hanno firmato L'estate scorsa Sono passati dieci mesi E hanno fatto bene De Vrai Quest'anno è ritornato il De Vrai A parte adesso De Pai Che purtroppo Però quest'anno Ha fatto un'ottima annata A De Vrai Insomma ci stavamo interrogando Insomma sulle prossime mosse Di mercato dell'Inter Ma Gigi Secondo te L'Inter sta mettendo le basi Per aprire un ciclo Con una certa continuità Almeno in Italia? Certamente Stante la mancanza della Juve Perché solitamente Quando uno voleva aprire un ciclo Faceva anche i conti con la Juve La Juve Credo salvo miracoli L'anno prossimo Sarà ancora Campionato di transizione Anche se Non puoi mai pensare Che la Juve Faccia sempre degli anni Da comprimaria Poi c'è il Milan Il Milan È una squadra particolare Che avrebbe tutte le possibilità Di essere una grande squadra Ma alla fine non lo è mai Perché Mi spiego Secondo me A differenza dell'Inter L'Inter Non ha Un giocatore Che ti può cambiare le partite Da solo Cioè il fantasista Cioè il fantasista Il Milan ce l'ha Perché Leao Quando è In grande spolvero E uno che dà una palla Inesistente Può creare La palla giusta Ecco Io credo che A differenza dell'Inter Che è una squadra Molto ma molto quadrata Perché credimi Al di là Della partita Con l'Atletico Che se l'Atletico Fra dieci partite Con l'Inter Ne vince una E' stata quella Perché anche nell'andata Se prendeva tre gol Non c'era nulla da dire L'Inter è quadrata Il Milan è fantasioso Ma si deve dare una regolata Se riusciranno A trovare Un giocatore a centro campo Che dia delle garanzie E che possa cementare Anche gli altri due Secondo me L'anno prossimo Vedremo una sfida milanese Sul come sta lavorando l'Inter Luciano Faccio anche a te La stessa domanda Che ho fatto a Gigi La possibilità di aprire Un ciclo Almeno in Italia Non ti dico Come quello Dei nove scudetti Della Juve Perché quelli magari Saranno inarrivabili Però Insomma Questi sono un po' più vecchi Come giocatori Però sicuramente Hanno possibilità Di andare avanti Io sono d'accordo Infatti Se vi ricordate Qualche settimana fa Io ho detto Che se il Milan Avesse avuto Tonali Per esempio Che è uno Che gioca Alla barella Ferma l'avversario E fa ripartire la squadra Benasser È un altro Importante Ma è stato fermo Per Infortunio grave E comunque Rientrando Da un po' di apporto Al centro capo Ma voi vedete Che il Milan Praticamente Subisce dei gol Perché non c'è il centro capo Perché non c'è il centro capo Che fa intensità Per cui basta che attacchi Non rientrano I giocatori E viene fuori Un contropiede Che può anche Trasformarsi in gol L'inter L'inter no L'inter è proprio squadra Secondo me L'inter è squadra Perché è Completamente È completa In tutti i ruoli Perché io Vedo bene Barella Per esempio Che si mette in mezzo Davanti alla difesa Ferma l'avversario In riparte Vedete C'è una logro Anche se ora Non è molto in forma Però Da sempre Quei palloni eccellenti Per gli attaccanti Mkhitarya Che nonostante l'età Praticamente Scorazza per 90 minuti E forse ne farebbe Anche di più Ecco lì Praticamente Su questi giocatori Cerbi E Mkhitarya Devono pensare Abbastanza Perché sono stati Giocatori Quest'anno Molto importanti Uno in difesa E uno Praticamente Nel suo Nel supportare Gli attaccanti Perché Mkhitarya Continua a correre Porta palloni avanti E poi Non bisogna pure Di andare in porta Per cui Io sono convinto Che l'Inter Possa continuare Fatti opportuni Accorgimenti Che non saranno Neppure tanti E Il Mila Deve Deve Mettersi Praticamente Come squadra In campo Cioè Ha tanti giocatori carini Tutti piedi buoni Ma più mezze punte Che centrocampisti E quindi Da questo Si va a leggere I gol subiti E si capisce Perché l'hanno subiti Sull'Inter Michele Cosa dobbiamo aspettarci Cioè Molti dicono Finché c'è Marotta L'Inter Può stare tranquilla Anche Per quanto riguarda Il futuro Lui ha rinnovato Lui ha rinnovato Fino al 2027 E tra l'altro L'ha ribadito adesso Prima della partita Con il Napoli Del discorso Di un impegno Per i ragazzi Nello sport Ma a 70 anni C'è nel 2027 Perché ha detto Io ho rinnovato adesso E sono contento Insomma Di questa Di questa scelta Anche perché Secondo me Adesso Sia Inzaghi Come allenatore Marotta Come dirigente Vedono Perché non sono stati Così facili I primi anni Ricordiamo Quando è arrivato Marotta L'Inter era una squadra Che arrivava a quarta All'ultima giornata Adesso invece C'è da raccogliere i frutti Da fare le mosse giuste Perché Il grosso L'Inter L'ha fatto l'estate scorsa Ha cambiato 14 giocatori Su 25 Anche se c'era Un asse portante Di 8-9 titolari Che sono rimasti Adesso c'è da fare i ritocchi Da indovinare Le mosse giuste Ma sono pochi Sono ritocchi Tipo Zelischi Che può dare il cambio A Mkhitaryan Tipo Un'alternativa in più In attacco Per il resto Secondo me Sarà più facile Rispetto a Milan E Juventus Che invece Magari devono fare Qualche Diciamo Scelta un po' più Strutturale Di sostanza Anche se il Milan Secondo me Come diceva il mister prima Come avete detto tutti Cioè l'abbiamo Siccome diciamo Tutti La stessa cosa Vuol dire che siamo Sulla strada Cioè il Milan È sulla strada giusta Nel senso che Anche loro Avranno visto Poi parliamo anche di Milan Perché abbiamo fatto un lavoro Particolare oggi In redazione E ve lo vogliamo sottoporre Per chiudere sull'Inter Per dire che Quello che secondo me È la rivale principale In questo momento Non abbiamo tirato fuori Un argomento Ma non è che magari Qualcuno gli viene La strana idea Di andarsi a prendere Simone Inzaghi Perché sai Però lui Comunque Finalista di Champions League Però è una sua creatura Questa Cioè non avrebbe il vantaggio Nell'estate 2024 Gli proporranno L'aumento di ingaggio Il prolungamento di contatto Non ce l'ho scudetto Perché Poi ha una squadra sicura E' una squadra fatta E' costruita Perché se lo chiama il Liverpool Gli dà 12 milioni All'anno Inzaghi dice di no Perché è una squadra sicura No Però Non è che finisce la carriera Tra due o tre anni A 48 anni Possiamo dire Che però Il ciclo inizia adesso Non è iniziato nel 2020 Esatto Il ciclo era già iniziato Perché secondo me La squadra dell'Inter Negli altri anni È sempre stata la più forte Anzi il quinto se vogliamo Perché il primo L'anno del Napoli L'anno del Milan Comunque secondo me L'Inter Era sempre la squadra più forte Sì però vedi Se sei la squadra più forte Un anno vinci Un anno no Però se sei la più forte Poi ti riproponi con facilità Non è un espluato di un anno Cioè l'Inter in questi anni Ha vinto Diciamo Questo sarebbe il secondo scudetto Due Coppe Italia Tre Supercoppe italiane E due finali di Coppe Europe perse Però comunque È una squadra Che ha una base Poi l'anno prossimo Magari Ce l'espluato di un'altra O il Milan Cresce Su quello che stiamo dicendo Può vincere Però l'Inter ha tutto Perché poi si dice questa cosa Che l'Inter è vecchia Allora Quest'anno ha abbassato Un po' l'età media Ma vi voglio nominare I giocatori Giovani Forti che ci sono Cioè già le due punte Sono del 97 E sono due punte titolari Bastoni è 99 Barella è 97 Adesso Bisse Che è un 2000 E sta facendo sempre Sta facendo bene Però per esempio Penso i due centrali Tu mi hai detto A Cerbi De Vrai Effettivamente Mkhitaryan Ma devi avere un uomo D'esperienza A Cerbi De Vrai Mkhitaryan Insomma non è che proprio A Cerbi De Vrai gioca uno E sono due per una maglia E devi avere uno esperto In difesa Non puoi fare la difesa Di ventenni Così come a centrocampo Serve pure uno Che insomma Poi Zelischi ha 30 anni E Mkhitaryan 35 Ma metti adesso Il 30 anni Li deve ancora compiere Un 94 Cioè io Vedo una squadra Che ha solide basi E alternative In tutti i ruoli Più Canna È arrivato da poco E un altro di 25 anni Che ti può dare qualcosa In più Ecco questo era il difetto Dell'Inter è vero Dell'imprevedibilità Che non saltano l'uomo Però Sapendo questo Sono andati su questa strada Turam è uno Che ha più dribbling Adesso forse Si cerca un'altra punta Di questo tipo Lo stesso Biucanane È uno che ha più dribbling Quindi Ci sono anche dei ruoli In cui c'è margine Di miglioramento L'Inter è una squadra Che giocava Proprio come si suol dire Di modulo Il collettivo No di modulo La proiezione esterna Col cross Andare a chiudere Sul secondo palo Mentre in Milan A fantasia Milan con L'off to cheek Con Pulis Hernandez e Leao più di tutti Che vanno la giocata Io ho detto che Negli anni Che Importanti Quando ha vinto lo scudetto E ha tre fuoriclasse Mignon Hernandez e Leao Quest'anno All'inizio Soprattutto Mignon È calato molto Però adesso Ha recuperato Hernandez Che sta ritornando A quello che era Non puoi frenarlo Uno così Quando parte Parte Leao Sta prendendo coscienza Di quello Che può fare Secondo me Se andate a vedere I gol che lui fa Sono sempre Nella parte centrale Del campo Perché ha una Facilità di caldo E È imprevedibile Per cui Secondo me Se lo togli un po' Dalla zona esterna Gli fai fare un po' più Un gioco Da protagonista Cioè senza Secondo me Il Milan potrebbe Avere grande giovamento Però è difficile Perché bisogna vedere Se lui accetta Questa cosa Questa è un po' più